Misterioso episodio la notte scorsa a Lecce, nel rione San Lazzaro. Intorno a Luna, ignoti hanno esploso una raffica di proiettili all'indirizzo del bar San Lazzaro, situato tra via Tafuro e via Leonardo da Vinci, gestito da un cittadino di origine albanese, ma da tempo residente a Lecce. Gli spari, esplosi in rapida successione con un'arma semi-automatica, hanno allarmato i residenti della zona che hanno avvertito immediatamente le forze dell'ordine. Oltre alle volanti della questura, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm. La serranda del bar è stata perforata in più punti, mentre sull'asfalto è rimasta una pioggia di bossoli. Sette i colpi che hanno centrato la saracinesca del locale. Secondo le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena, i malviventi erano in due, coperti dai caschi e dopo aver sparato sono fuggiti a forte velocità in sella ad una moto. Sulla base delle poche contraddittorie informazioni raccolte, gli agenti di polizia hanno perlustrato le vie del centro, ma non è stato trovato nessun elemento utile per risalire agli autori della sparatoria. In queste ore, gli investigatori stanno visionando le immagini delle videocamere di sicurezza poste all'esterno del bar. Il titolare ha riferito alle forze dell'ordine di non aver mai subito minacce. Le indagini al momento non escludono nessuna pista, ma quella a scopo estorsivo è chiaramente quella più battuta.